Posso fare una domanda sulla sua maglietta? Umor nero. Richiama i campi di concentramento come se fosse a Disney. Umor nero. Si giustifica così una donna del servizio d'ordine di Forza Nuova circa la maglietta che ha deciso di indossare domenica la manifestazione in ricordo della marcia su Roma che si è tenuta a predappio. Un umorismo nero, per usare le sue stesse parole, che è diventato immediatamente il simbolo mediatico della giornata che ha visto circa 2000 persone giungere nella cittadina forlivese e recarsi al cimitero di San Cassiano per rendere omaggio alla tomba di Benito Mussolini. Nostalgici del fascismo, ai quali evidentemente non dava fastidio che uno dei responsabili dell'organizzazione facesse sfoggio di tale ironia a pochi giorni, tra l'altro, da un attentato antisemita che negli Stati Uniti ha costato la vita a 11 persone di religione ebraica. Una manifestazione che era già finita nel mirino delle polemiche giorni fa quando Lampi aveva chiesto che venisse vietata per consentire solo quella relativa alla liberazione del paese dal nazifascismo e che dopo la trovata di Selene Ticchi, già candidata a sindaco di Budrio, ha suscitato ulteriore scandalo tanto da spingere il senatore Di Leo Francesco Laforgia a presentare un'interrogazione parlamentare al ministro dell'interno Salvini per capire, aperte virgolette, se condivide il paragone di un campo di sterminia di un parco giochi e quali misure intenda promuovere al fine di evitare il ripetersi di simili episodi.